Buongiorno amiche, buon sabato! Anche oggi sono uscita dal sarcofago ma non ce la sto facendo. Sonno, 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 tantissimo sonno ma oggi un po' di allegria. Guardate che carina questa fascetta skin care! E la fascetta skin care, se non sbaglio, dovrebbe chiamarsi malefica. È super carina secondo me. Provate a indovinare amiche quale sarà la palette protagonista, ma forse l'avete già vista in un unbox. Provo a piazzarmi questa fascetta un po' burlona ma mi è venuto anche un po' di dubbio. Ma non è che è una fascetta per carnevale, allora sono andata a leggere, ma dice proprio che è una fascetta per fare make up e skin care. Quindi, che dire, ci fidiamo e proviamo a posizionarla. E qua è un po' duretta perché qua ho già visto che c'è un'etichetta che è bruttissima da vedere. E direi anche no amiche, che dite? Io direi che la tagliamo con la nostra amica forbicina. Eccola qua e proviamo a tagliarla. Dato l'orario, tanto presto alla mattina con questo make up e questa skin care, sto attenta a non farmi male. Sempre cautela con le forbici amiche, soprattutto di prima mattina, ma ce l'ho fatta senza farmi male e senza rompere la fascettina skin care. Ora ci riproviamo, la piazziamo e vediamo se andrà un po' meglio. Amiche, fatemi sapere come state, io spero tutto bene. Fatemi sapere nei commenti se da voi c'è il sole, se è una bella giornata e come state. E qua io invece sto provando in tutti i modi a piazzare la fascetta, ma ci sono. Fa male alle orecchie, tira, c'è un'altra etichetta con la scritta e qua mi sono accorta di averla messa rovescia. Ecco perché non riesco a far stare la coroncina in alto, ma ci ritentiamo e speriamo che sia la volta buona, perché sono quasi con le speranze perse, no? Quasi perse le speranze. Dunque, tiriamo su, io direi che questo è il dritto, no? Che dite? Non si può guardare. Amiche, una mummia è poco, ma via con la skin care veloci come razzi. Il tonico è la prima operazione che facciamo, diciamo, per ristrutturarci. Una bella spugnettina di quelle bio in cotone da lavare, così non dobbiamo buttare il cotone, diciamo che non si ricicla all'ovattina, si va a buttare. Invece questa è di stoffa, di spugnetta e si può tranquillamente lavare. E vengono perfettamente pulite, sono molto comode. Abbiamo applicato il Tonic Comfort di Lancome, è pazzesco ed è una taglia viaggio di 50 ml che avevo trovato, mi pare, se non sbaglio, nel calendario dell'avvento. Ora andiamo ad applicare lo scrub di Labello Aloe Vera. È fantastico, mi piace tantissimo. Ha i granuletti che si sentono un pochino di più rispetto a quello che abbiamo utilizzato ieri alla rosa canina. Questo è un pochino più con i granuletti che si sentono, ma non mi dà fastidio, lo tengo su un po' in piegami che imposa sulle labbra. Ora andiamo ad applicare, a finire, perché è quasi finito, il Life Plankton Elisir di Biotherm. Forse ce la facciamo, è quasi finito, ancora qualche goccettina, ancora per oggi ci basta, ma domani mi sa che non ci basterà più. Massaggio rilassante con questo Life Plankton Elisir di Biotherm che è pazzesco, ha una profumazione che è veramente una delle profumazioni più buone che ho sentito nella mia vita. Ora applichiamo il Total A-Lift di Clarence. Il nostro trattamento del cuore, perché ci sta piacendo tantissimo, ha un effetto lifting ridensificante. E questo è un tubettino da 7 ml che sta durando un botto di giorni, amiche. Veramente tanti tanti giorni, è pazzesco, mi dà proprio una sensazione anche di freschezza, buono, mi piace proprio. Ora andiamo a finire la nostra crema, l'altro giorno l'avevamo aperta e poi conservata con le pinzette, amiche. Oggi andiamo a recuperarle, a finirla. Vedete c'è un botto di crema all'interno e con una stecchetta di plastica, quella che danno, diciamo comprese nel prezzo con i contorno occhi, mi pare più igienico, utilizziamo quella per portare fuori la crema dal tubetto. E andiamo a risigillarla perché la utilizzeremo ancora nei prossimi giorni. Perché c'è tanto tanto prodotto dentro, peccato sprecarlo, meno male non l'abbiamo buttata perché ce n'è proprio una chilata. Ora applichiamo appunto questa crema che è di Clarence ed è la crema pelli normali e secche ed è veramente super confortevole. Mi piace tantissimo ma non ha l'SPF all'interno e quindi andiamo ad applicare un po' di cremina solare con l'SPF 30. È una crema solare di Clarence, questa me l'avevano data in omaggio con un ordinetto, quindi ancora più bella. Oggi vado ad applicare un pochino più di crema perché essendo sabato penso che potrei mettere il naso fuori di casa e quindi prendere anche un po' di luce solare. Penso che ne riapplicherò un pochino anche dopo. Adesso togliamo lo scrub e andiamo ad applicare il barsamo labbra. Questo è fantastico, almeno così mi ha detto la regista che ne ha già provato uno. È di Equilibria Aloe, con l'aloe dentro, protettivo e lenitivo ma ha un difettino. Praticamente quando voi volete utilizzarlo e provate a portare fuori lo stick, lui ricade all'interno e quindi bisogna tenerlo. Questo è il terzo che compro perché l'avevo dato già all'aiuto regista e tutti hanno lo stesso difetto. Fatemi sapere nei commenti se l'avete mai provato e se anche il vostro ha il difetto che non rimane fermo. Ora applichiamo la crema con collo e décolleté di Clarence. Anche questa crema è bella, bella, potente, amiche, mi piace tantissimo. È un trattamento giovinezza, décolleté e collo, levigante e rassodante. E ora applichiamo la crema a mani. Questa crema a mani di Lancome, la Comfort crema a mani, ha una profumazione che è veramente spettacolare, delicatissima, buonissima e l'avevamo trovata nel calendario dell'avvento di Lancome, ma se non mi sbaglio, dell'anno scorso. Ora applichiamo il correttore di Max Factor nella colorazione super chiara 001 che mi piace tantissimo perché va a schiarirmi in una maniera pazzesca le occhiaie che mi porto direttamente da una discendenza con i panda, amiche, e lo applichiamo in modalità Skeletor, così con dei tratti. Non sono per niente carina, ma pazienza con questo correttore, però è veramente, veramente molto, diciamo, coprente ma allo stesso tempo non va a insinuarsi in modo malefico tra le pieghette degli occhi che è una cosa che non sopporto. Ora applichiamo il fondotinta Oil Free Active Light di Pupa, è un attivatore di luce ed è nella colorazione super scura che è lo 0,70. Ora applichiamo il fondotinta di Wet n Wild, il Photofocus Matte, nella colorazione Ivory. Anche questo fondotinta è spettacolare, è un po' liquidino. Quindi, secondo me, basta applicarne per la mia pelle e non ho esigenza di metterne un litro, amiche. Ne applico poco poco, soprattutto per andare un attimo a sfumare e ad amalgamare il chilo di correttore che mi sono buttata in faccia, amiche, perché sono murata di correttore e adesso andrò a murarmi anche di cipria a breve. Però prima sfumiamo sia con Lady Tina sia con la Beauty Blender, meglio che si può, si va a sfumare i due colori di fondotinta per andare a creare, diciamo, meno stacco tra l'uno e l'altro, ma soprattutto schiarire un po' la zona più scura e scurire un pochino di più la zona, diciamo, di fondotinta troppo chiaro. Il risultato, secondo me, è veramente bello perché dà un po' la sensazione di abbronzata, di pelle sana che non mi appartiene, diciamo, di natura e quindi mi piace realizzare con il fondotinta. Ora, applichiamo per la prima volta, amiche, questa cipria è la cipria Stay Matte di Rimmel ed è una cipria compatta e la colorazione che proviamo oggi è la 005 Silky Beige. La cialda è pazzesca, c'è un disegno che mi piace tantissimo e l'andiamo a applicare con il pennello. Questa non ha nemmeno la spugnetta in dotazione e hanno fatto pure bene, mi viene da dire, tanto a parer mio non serve a nulla, amiche, la spugnetta. Molto meglio, un pennello decente per applicare e si risolvono tutti i problemi. Adesso andiamo a infarinarci come i totani, come sempre, indispensabile. Tra l'altro questa si chiama Stay Matte, quindi vuol dire che ci toglie la lucidità per tutta la giornata. Andremo a vedere stasera se effettivamente sarà così o se magari in carta peccorisce la pelle e la fa secca, speriamo di no. Ora applichiamo il Glow Obsession di Pupa, il Liquid Highlighter, è un illuminante liquido effetto metallico. Tra l'altro mi sono spaccata per cercarlo, amiche, e sono felicissima alla fine di aver trovato l'illuminante di Pupa che volevo, questo è nella colorazione 002, e lo sto provando per la prima volta qua con voi. E mi sono trattenuta perché è due mesi, forse che lo devo provare, ero super curiosa. Proviamo anche sul naso, l'applicazione è fantastica, troppa luce, sembra una palla da discoteca. Quindi vado a sfumare col dito e applicare anche nell'arco di cupido. Ok, quindi secondo me, anche se ne mettete troppa, nessuna paura, basta sfumare. Ora applichiamo il Blush di Clarence nella colorazione 02, che dovrebbe essere Cheeky Pink, se non sbaglio. È super top questa colorazione, l'avevamo trovato nel calendario dell'avvento di Clarence. Bellissimo, secondo me è un bel effetto. Mi piace, sono soddisfatta. E voilà, ecco la palette Villains, è un eyeshadow palette di Mad Beauty, penso in collaborazione con Disney, perché qua vedo che c'è scritto Disney sulla palettina. È veramente bella. I colori a vedere così mi sembrano pazzeschi, speriamo che siano anche super scriventi, amiche. Togliamo la plastica che è fondamentale, se vogliamo usare la palette dobbiamo togliere le plastiche, se no non la possiamo utilizzare, giusto amiche? Ora di questi andiamo a utilizzare sicuramente la colorazione più chiara, per dare un pochino di luce nell'angolo interno dell'occhio, questo qua amiche. Tra l'altro hanno dei nomi bellissimi tutti questi colori, perché questo chiaro si chiama Bad, quindi io presumo che vuole essere intendere cattiva, come lo sono le cattive dei cardone animati Disney. Ah, è grandissima questa palette e ha uno specchio veramente bello grande, secondo me è pazzesca. Poi abbiamo applicato il colore rosato, è un colore rosato matt e che si chiama Hevil, è bella. Io secondo me mi piace, dai, mi tocca dire carino. Ora andiamo ad applicare il colore verdino, tutto glitterino, che sul dito è pazzesco e si chiama Fierce, ma sugli occhi, amiche, non si vede questo verde, che è così prepotente sul dito, ma scaldato e applicato sugli occhi va a rinforzare praticamente il rosa, facendolo diventare un rosso bordeaux. Boh, non so se mi piace, mi dà l'idea delle cattive di Disney, ecco, questo colore. Però, non so, sì, mi sembra un pochino, me l'aspettavo verde, amiche. Ora applichiamo Darling, che è un nero praticamente superscrivente, che mi fa venire in mente Charlotte Tilbury, più che Mad Beauty e Disney Villains. E quindi, boh, il nome questo qua, Darling, non mi piace. Ora attacciamo anche l'altro occhio e cerchiamo di farlo uguale all'altro, ovviamente. E i nomi sono tutti pazzeschi, tranne Darling. Gli altri mi piacciono tutti, perché abbiamo Trouble, Cruel, Scary, Queen, Sinister, Cursed, tutti belli, ma Darling non lo capisco. Non lo so, non mi sembra un nome adatto a questa palettina. È strana come si comporta questo colore verde glitterato, perché pensavo che rimanesse verde, invece quando lo applichiamo diventa un rosso, scuro, un marrone. E' strano, sono curiosa di capire se il lilla che c'è, quando lo useremo, rimane il lilla o se diventa anche lui magari bordeaux. Lo proveremo in uno dei prossimi video, amiche, perché sono molto curiosa di sapere, tra l'altro, anche nella cialdina proprio del colore, è diventata la cialda stessa, passandoci il dito, è diventata bordeaux. Ma il mio dito, amiche, era pulitissimo, non aveva il bordeaux, non aveva il rosa, era proprio pulito. Però dai, l'effetto mi dà un po' di cattiva di Disney, non mi dispiace. Voi che dite? Cosa ne pensate? Alla fine, anche se per caso capitano, diciamo, delle cose un po' diverse, a volte non sono poi così male. Ora andiamo ad applicare il fantastico mascara di Lancome, l'ipnos che avevamo trovato nel calendario dell'avvento di Lancome. Questo mascara io lo utilizzo sempre quando voglio vincere facile, quando le voglio pettinate bene, allungate, volumizzate e pazzesche. Perché non mi delude mai? Tra l'altro non si secca facilmente, dura tantissimo tempo. E che dire, posso dire solo cose belle di questo mascara. E non mi va a, diciamo, a impiastricciare gli occhi, è facilissimo da rimuovere con uno struttipoioso, lo strucante bifasico di pupa, ed è molto, molto facile da rimuovere, non mi fa arrossare gli occhi, non cola, abbraccia le ciglia una a una, e quindi pazzesco, amiche. Quando alla mattina magari che sono di corsa, e ho, sì, non voglio delusioni, uso questo mascara e sono sempre, sempre, sempre super felice. Ne do sempre tante passettine, amiche, per dare l'effetto un po' bambolina, che mi piace, devo dire. Il mascara non lo risparmio, ne metto sempre una bella chilata, e mi dura sempre tanto lo stesso. Questo è l'effetto che abbiamo ottenuto col mascara, e ora andiamo ad applicare il Lip Glow Oil Color Revever, il Cherry Oil, nella colorazione 012 di Christian Dior. Ed è pazzesco, ovviamente. Questo, amiche, ha il pennelletto per applicarlo a cuscinetto, che è morbidissimo, super confortevole e profumato. È bello, è buonissimo, è un po' che lo uso e mi piace. Voi cosa ne dite di questo make-up? Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Come sempre vi auguro una buona giornata, un buon sabato, ci vediamo nel pomeriggio col prossimo video, amiche. Un bacio, come sempre, dalla vostra Lallix, vi mando un bacio e un abbraccione, grande, grande. Ciao, amiche!